Il piano di riordino della viabilità nel centro storico di Gela necessita di una serie di correttivi per quanto riguarda gli stalli di sosta relativi al noleggio con conducente al transito dei disabili nella zona a traffico limitato. Lo sostiene il gruppo consigliare del Partito Democratico, il capogruppo Enzo Cilignotta. Già qualche suggerimento è stato recepito dall'amministrazione comunale di quello relativo al transito dei disabili nella ZTL. Noi diciamo sì alla verifica dei passi, è chiaro che una verifica serie puntuale va fatta, diciamo no al dietro di transito e questo suggerimento è stato recepito dall'amministrazione comunale. Poi questo nuovo piano prevede l'eliminazione degli stalli di sosta per quanto riguarda il noleggio con conducente che attualmente sono posizionati davanti alla Chiesa Madre. Secondo noi, anche da un'interlocuzione che è avvenuta con gli operatori del settore, gli stalli debbano continuare a essere localizzati in prossimità del centro storico. Ci riferiamo al piazza San Francesco e piazza Salandra e poi riteniamo che bisogna anche, così come avviene in tutte le altre città, individuare altri stalli di sosta per i tassisti in prossimità dell'ospedale della casa di cura Santa Barbara. Per il PD va esaminata e valutata anche l'estensione del servizio di sosta a pagamento su tutto il lungomare. Bisogna avviare una concertazione con l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale, il consiglio comunale e gli operatori del settore. Andare a prevedere 600 stalli di sosta su tutto il lungomare, dalla rotonda estra di Macchitella fino al Calvario, riteniamo una cosa in questo momento inaccettabile e quindi chiediamo all'amministrazione comunale prima di prendere qualsiasi decisione di parlarne, anche perché andare a gravare sulle tasche dei nostri concittadini in un momento di crisi economica potrebbe anche scoraggiare la presenza di bagnanti nel lungo nostro litorale e creare un danno economico a tutte le attività commerciali che insistono sul lungomare.